Perquisizioni a raffica ieri a Vittoria ad opera della Polizia di Stato, in campo la squadra mobile di Ragusa e il commissariato di Polizia di Vittoria. Su disposizione del questore Giuseppe Gammino i controlli sono stati effettuati con la presenza di unità cinofile antidroga e anti-esplosivo. In particolare durante un controllo gli agenti hanno scovato un'officina abusiva dove venivano modificate e fabbricate armi da fuoco. Il locale era nella disponibilità di Salvatore San Martino, vittoriese di 56 anni. All'interno una vera e propria officina per la fabbricazione e modifica di armi, due le pistole pronte perfettamente funzionanti, decine di munizioni di ogni calibro costruite anch'esse artigianalmente. Le armi, pronte a fare fuoco, erano originariamente a salve ma debitamente modificate con particolare cura e professionalità e di calibro molto offensivo. San Martino ha provato a dare giustificazioni assurde capendo ben presto che era meglio tacere davanti all'evidenza dei fatti. L'officina è stata totalmente smantellata e tutti gli attrezzi sono stati sottoposti a sequestro e verranno custoditi negli uffici della squadra mobile per gli accertamenti da parte della polizia scientifica. Nel corso di un'altra perquisizione invece gli uomini della polizia di Stato hanno arrestato Francesco Monteleone, 21 anni, per detenzione di hashish e detenzione illegale di armi e munizioni, provento di furto. Grazie al fiuto dei cani App e Vite, gli agenti hanno scovato all'interno di un mobile un marsupio contenente 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e una pistola modello revolver completa di munizioni. La perquisizione veniva poi estesa anche ad altre stanze dell'abitazione e i cani rinvenivano all'interno di un peluche altri 50 grammi di hashish. L'arma e le munizioni erano detenute illegalmente e sono risultate rubate a un vittoriese. Denunciato per coltivazione di marijuana e infine un 49enne vittoriese in casa e precisamente nel balcone, sono state trovate tre piante di marijuana già alte e mature, ma non al punto tale da permetterne l'arresto, pertanto veniva solo denunciata in stato di libertà. L'uomo, nonostante la presenza del figlio, sospettato di essere il vero coltivatore, si è assunto la responsabilità della detenzione affermando di farne uso personale per motivi terapeutici poiché affetto da una grave patologia. I tre arrestati invece al termine delle operazioni di rito sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa che ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa degli interrogatori di garanzia.